Il tentativo di conciliazione fra le parti coinvolte nelle vicende del Porto Turistico d'Imperia avviato dal sindaco Carlo Capaci non pare sia andato a buon fine, se è vero come è vero che i curatori fallimentari della Porto d'Imperia Spa hanno avanzato un nuovo ricorso al Consiglio di Stato contro la decadenza della concessione messa dal Comune, confermata d'altare e ribadita dallo stesso Consiglio di Stato. I legali della curatela hanno infatti contestato che la pronuncia del Consiglio di novembre scorso sarebbe stata viziata dalla mancanza di documentazione. L'accoglimento della decadenza era basato sul mancato pagamento dei canoni di concessione demaniale relativi al 2011-2012, ma a copertura di quei canoni vi era una polizza assicurativa che il Comune ha incassato e secondo i legali in questo modo viene meno qualunque pretesa ulteriore da parte di Palazzo Civico relativamente al pagamento dei canoni. Da questo, sempre per i legali della curatela fallimentari, verrebbe meno anche il presupposto di decadenza della concessione e per questo motivo gli stessi avvocati chiedono la revocazione del provvedimento del Consiglio di Stato. Capaci spera ancora che comunque si possa trovare un accordo fra le parti coinvolte nelle annose vicende del porto turistico. I carabinieri forestali di Ventimiglia hanno sequestrato un'area di circa 7.000 metri quadrati sull'argine sinistro del fiume Roia dove sono state rinvenute le carcasse di un centinaio di veicoli tra auto e furgoni con i relativi motori contenenti oli esausti considerati rifiuti speciali. L'area appare sia in parte privata e in parte ricadente in zone di demanio e comune e per questo i reati contestati sono quelli di occupazione abusiva di suolo pubblico ed emaniale e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Il fiume Roia è infatti un SIC, vale a dire, sito di interesse comunitario. Una persona sarebbe già finita sul registro dagli indagati nel fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Imperia. Oggi è una giornata importante. Il centro antiviolenza di Imperia potrà andare avanti. Questi locali che dovevano essere venduti perché di proprietà di Arte Genova e la precedente amministrazione regionale aveva predisposto la vendita di questi immobili, noi abbiamo stoppato questi atti facendo in modo che questi locali diventassero di proprietà di Regione Liguria e che attraverso degli atti amministrativi abbastanza complessi ma che dopo mesi ci hanno portato ad avere questo risultato, finalmente questi immobili sono di proprietà di Regione Liguria. Quindi il centro antiviolenza potrà proseguire la sua attività, la potrà seguire per i prossimi sei anni perché il contratto di locazione è per sei anni ma sicuramente rinnovabili e di questo siamo molto felici. Siamo molto felici perché qua tanti volontari stanno portando avanti un'opera significativa e utile al territorio ed è importante che un centro come questo se fosse stato chiuso e spostato da un'altra parte avrebbe comunque creato del disagio sia agli stessi volontari ma soprattutto ai tante persone che purtroppo hanno bisogno delle attenzioni e di appoggiarsi su realtà come queste. Devo dire che questo centro se lo merita perché è un centro molto attivo, abbiamo riferito anche alcuni numeri oggi e su un'ottantina di donne che ogni anno si rivolgono, questi sono i dati più recenti, dopo la prima telefonata 56 sono rimaste, sono state prese in carico e quindi c'è un'alta percentuale di donne che dopo il primo contatto rimangono e questo è un segnale assolutamente positivo perché invece la media poi è quella spesso che una donna ogni due invece rimane e l'altra sfugge dalle maglie dell'intervento. Quindi giusto che abbia avuto questo sostegno, tra l'altro ci è stato riferito dalla responsabile del fatto che in quest'ultimo anno si sono avuti 5 casi di emergenza, emergenza vuol dire donne che, centri che vengono contattati dalle forze dell'ordine per l'emergenza vera perché le donne sono a rischio e non possono tornare a casa e 5 persone in questa provincia dall'inizio dell'anno oggi sono un numero alto, lo scorso anno erano 5 in tutto l'arco dell'anno e vuol dire però, bisogna anche vedere l'altra faccia della medaglia, che sono 5 casi che sarebbero potuti diventare dei casi di cronaca, di cronaca drammatico ovviamente, invece il fatto che il centro è intervenuto e sia stata data una soluzione di protezione alle donne che non sono più tornate nella situazione del disagio e del rischio, beh le ha incamminate in un percorso diverso e le ha salvate, quindi questo è un segnale da interpretare e da dire che quello che stiamo investendo, la regione di Liguria ci sta investendo molto, nei centri antiviolenza bene, sono finanziamenti che servono, che sono un bespesi e che dobbiamo continuare a sostenere anche nella formazione del personale. Tra qualche giorno, il 31 maggio, inizierà qui la formazione del personale perché sia sempre più adeguato intercettare il disagio ed è bello che a formare il personale della pubblica amministrazione qui sia la responsabile del centro antiviolenza perché dimostra anche un grande segnale di competenza. Sì, il centro provinciale antiviolenza della provincia di Imperia finalmente può stare tranquillo, la sua sede è consolidata grazie a un grande lavoro dell'assessore Scaiola e di tutta la giunta regionale. Assessore Nocita, Sanremo, città europea dello sport, non soltanto uno slogan ma un impegno in qualche modo. Assolutamente sì, l'aver avuto questo privilegio da parte di Aces che è diciamo una associazione a livello europeo, consente a Sanremo ovviamente di freggiarsi di questo splendido titolo e l'impegno che abbiamo dovuto dare è quello sicuramente di diffondere il più possibile la pratica sportiva a partire dai piccoli fino ad arrivare agli adulti. Sappiamo che oggi la vita si è allungata parecchio grazie a tante cose, ad una sanità più efficiente, ad una dieta migliore ma anche la pratica sportiva consente sia un allungamento di tipo temporale della vita ma sia anche un miglioramento della qualità della vita. Quindi l'impegno è in questa direzione e ovviamente l'impegno è anche stato quello di mettere nel nostro calendario di manifestazioni numerosi eventi di tipo sportivo. La commissione è venuta ad esaminarci e poi ci ha premiato e sia anche in quest'anno 2018 cercando di darci una mano nell'organizzare il più possibile di eventi di tipo sportivo ma anche di tipo culturale per far capire il valore dello sport, il valore dello sport sano e puro da poter insegnare alle giovani generazioni ma non solo che lo sport fa parte del nostro quotidiano e anzi deve avere sempre maggiore percentuale nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra cultura e nelle nostre considerazioni e azioni quotidiane. Iano Prizio, domenica 27 maggio, pre là e non solo, tutto questo territorio della Valprino si rimette in gioco e in movimento. La passeggiata enogastronomica ormai è un appuntamento imperdibile? Sì, domenica 27 maggio c'è la diciottesima edizione della passeggiata enogastronomica e questa passeggiata, mi va piacere ricordarlo, è stata ideata dalla passata amministrazione da Romolo Guasco quando era sindaco a Pre là, cui ringrazio per quello che ha fatto proprio per inventare questa bella manifestazione. La diciottesima edizione è rimasta immutata perché sia il percorso sia le varie tappe alimentari sono sempre state vincenti, per cui quando una cosa va bene è inutile apportare delle modifiche che poi sicuramente non vengono più ben accettate sia dalla gente che partecipa a questo tipo di manifestazione. Questa manifestazione secondo me è una manifestazione che mette in risalto non solo Pre là ma un pochettino tutta la Valprino, sia Dolcedo che Pantasina che è Evasia diciamo perché è un po' l'emblema un po' di tutta la Valprino. Inizia come al solito da Molini di Pre là, poi per strada Mulatiera percorre tutte le varie frazioni e poi si conclude sempre a Villa Talla. Ecco c'è anche Irene Drizzacos che è consigliera comunale a Pre là, anche lei impegnata in questo vero e proprio evento perché appunto Molini di Pre là, Villa Talla, Tavole, Valloria insomma tutti coinvolti. Sì è un'ottima occasione per poter scoprire il nostro territorio, per poter assaporare dei piatti tipici e chiaramente anche un'ottima occasione per poterci venire a trovare e saremo molto lieti di ospitarvi ed è un'iniziativa che coinvolge adulti, ragazzi, un po' di tutta l'età. Sarebbe bello poter coinvolgere anche le scuole, insomma è un ottimo ottimo intervento. Anche perché ci sono tanti volontari coinvolti non solo nel fare da mangiare ma nel mantenere questi sentieri che vengono percorsi. Certo la sentieristica è molto importante soprattutto in queste zone rurali che hanno iniziato solo da pochi anni avere questo flusso turistico e è permesso anche grazie a questi sentieri di interesse non solo naturalistico ma anche paesaggistico. Allora appuntamento sulla piazza di Molini di Prelà domenica 27 maggio. A che ora si parte? La partenza è intorno alle ore 11, 11.30 da Molini di Prelà dove viene distribuito l'antipasto, una colazione abbondante a base di pizze, focacce, bruschette e tutta roba che preparano i volontari di Molini di Prelà. Lì dopo si giunge a Valoria dove lì verrà offerto il primo piatto che è pasta sutta al pesto oppure pasta sutta al sugo e poi si raggiunge la frazione di tavole dove lì viene distribuito il piatto tipico che è la capra con i fagioli. Lì dopo si va a Villa Talla dove lì si conclude la manifestazione, c'è un po' di trattenimento e viene distribuito il dolce, frittale di mele, formaggio col miele, torte e quant'altro. E da Villa Talla una volta finita la manifestazione c'è un servizio bus navetta che riporta la gente a Molini di Prelà. Mi fa piacere ringraziare tutti i volontari che ci permettono di fare questa manifestazione perché solamente con le forze della nostra amministrazione probabilmente non ci si riuscirebbe. Ormai sono anche due anni che c'è la squadra dei cinghiali che ci dà un grosso contributo a pulire una gran parte dei mulattieri, cosa che sicuramente con molta difficoltà noi riusciremo a farlo. Per cui ringrazio tutti i giovani, ragazzi, persone anziane che sono tanti che si spendono per la buona riuscita di questa manifestazione. La ruota, come sempre, continua a girare, una volta da una parte, una volta dall'altra. Di nuovo non c'è quasi più nulla, anche se sorprende scoprire che la crisi, non risparmiando a nessuno, è come la ruota. Oggi da una parte, domani dall'altra. Poi sappiamo bene che la crisi, colpendo le famiglie, mette nel mirino beni di prima necessità, ma anche beni voluttuari, che poi voluttuari non sono del tutto, visto che danno lavoro a migliaia di persone. In questi giorni si parla di grandi imbarcazioni in fuga dalle coste francesi e dirette nella nostra riviera. C'è chi addirittura pronostica un'estate boom all'insegna di mega yacht con impennate che supererebbero il 15%. Si capisce subito che se un esodo di barche scatta a beneficiarsi saranno soprattutto gli scali turistici da Ventimiglia a Sarzana per scendere poi verso la Versiglia. È stata definita la grande fuga di primavera-estate del 2018. Ma perché scappano i francesi? Il governo ha eliminato le agevolazioni previste da anni in accordo con l'Unione Europea, che rendono i porti francesi meno vantaggiosi rispetto al passato. La nautica d'oltre alpe, o perlomeno la nautica d'oltre confine, nel mirino del fisco, un po' come accadeva in Italia qualche anno fa. La ruota gira e a un tempo gli italiani fucivano verso la costa azzura per evitare la tanto odiata tassa di stazionamento. C'era stata contestazione e, come sempre, avevano messo le cose a posto. Oggi la Francia di Macron mette in fuga i francesi che cercano rifugio in Italia. Per l'estate è previsto l'assalto ai posti barca, che vedrà la provincia della Spezia e Genova con una quota del 35% in più, mentre il ponente, la percentuale, si fermerà al 30%. E' la ruota che continua a girare. San Vincenzo di Lerino Nato all'inizio del V secolo da una nobile famiglia della Gallia, venne avviato alla vita militare, che poi abbandonò per quella monastica. La sua fama è legata ad un libretto intitolato Commonitorio, scritto contro le eresie, un insieme di criteri per distinguere il vero dal falso. Scritto nel 434, il libro fornisce ai teologi il metro per giudicare la bontà di un'affermazione teologica. Atteniamoci a ciò che è stato creduto ovunque, sempre e da tutti, raccomandava San Vincenzo nei suoi scritti. La tradizione cristiana è viva e lo stesso dogma si sviluppa. Questa legge, formulata da Vincenzo, fu fatta propria dal Concilio Vaticano I. Morì verso il 450 presso il monastero di Lerins, davanti a Cannes, dove aveva passato tutta la vita. Grazie a tutti.